Da piccola avevo fatto a Terni le prime selezioni per Miss Italia perché mia madre era stata una Miss in passato che con le compagne di classe volevo entrare nella RAI ma poi gli insegnanti non ci fecero andare perché comunque avevano timore che non studiassimo. Però quando arrivai a Milano fui notata dall'Elemora una sera che eravamo in discoteca con delle amiche dell'università e mi disse se volevo entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ero un po' impaurita perché temevo il confronto con le altre e non mi sentivo abbastanza bella. E invece andò a buon fine. Io ero fan di Simone Aventura, glielo dissi e lui mi disse va bene fai il provino per la schedina quelli che è il calcio e mi prese e quindi lì fu la svolta veramente perché poi dalla schedina mi fece fare anche l'Isola dei Famosi.